Questo arrezzo qua ve lo aspettavate così aggressivo diciamo? Sì, sicuramente ci eravamo preparati a una partita difficilissima come lui è stata non ci aspettavamo certamente di partire con il tendentico di due gol subito presi come diceva Fabio in modo stupido per ragurarsi loro ma anche sicuramente per qualche mancanza nostra Vincere rammarico perché eravamo riusciti a rimettere in piedi una partita che sembrava tra l'altro verso sbagliato e ancora più rammarico su me aver preso gol su falla in attiva in un momento che ti siamo detti tutti e forse era un momento poi in cui potevamo andare addirittura a vincere e quindi sicuramente siamo contenti, dovevamo più dare l'anno come stavamo facendo le ultime partite non ce l'abbiamo fatta, incomincieremo alla campione La prima volta dal primo minuto ti abbiamo visto un attimino emozionato e sappiamo che puoi dare molto di più per un attimino ti abbiamo visto un po' Sì, sicuramente giocare poi in uno stadio così, sentire le emozioni, ho cercato di dare il mio meglio non ce l'avrò fatta, non ce l'avrò fatta, ci sono gli addetti a giudicarlo, ci sono io però ci ha lammarico sicuramente per aver perso, se avessimo vinto Esordito anche una partita di pizzi Si riprenderà comunque col Ponte d'Era, sapendo che vabbè, a prescindere dai risultati dell'andata che sono stati, senti partiti così, sordina quindi Sì, andate ma abbiamo iniziato male, però adesso siamo altra squadra la studieremo, la prepareremo, la faremo in massimo Va bene, grazie Grazie